Musica Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora andiamo subito a scoprire quali saranno le tematiche che affronteremo all'interno di questa puntata Bilancio, approvata la prima variazione 2022-2024 Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Con 23 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio regionale ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione approvati anche con 23 voti favorevoli e 13 contrari gli interventi normativi collegati alla prima variazione Ad illustrare la manovra in aula è stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024 Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende Un voto positivo, si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni così come delle tariffe per noi è un elemento importante non era il momento di aumentare le tasse siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il carbo letto diventa insostenibile la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane Il Consiglio regionale ha invece respinto gli emendamenti del gruppo di Fratelli d'Italia illustrati dal Presidente Francesco Torselli Prima variazione di bilancia del 2022 tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? che le preoccupazioni della regione sono da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici siamo allibiti da tutto questo in realtà non si tratta di un aumento delle tasse peggio ancora si tratta dell'aumento della liquida regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno si tratta dei soliti 145 mila 150 mila circa cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori le partite IVA le ditte individuali i baristi gli storatori i liberi professionisti gli avvocati i commercialisti cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF gli aumenta le tasse e dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge beccattini cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato perché magari come presidente percepisce troppo poco vorrei intanto rincuorrare tutti per cui c'è un aumento del prelievo fiscale perché abbiamo assistito e stiamo assistendo a un dibattito surreale forse anche perché siamo il giorno successivo alla primavera ma di fatto c'è un aumento della tassazione in questa regione molto probabilmente non sarà che il primo chiaramente si fa un dibattito su chi si va a toccare su quali redditi si vanno a toccare si presuppone che i redditi sopra 50.000 euro non siano gravati da altri prelevi fiscali ma in realtà quello che si va a comporre con questa variazione di bilancio è tutta una serie di interventi che hanno una loro razio e che Fratelli d'Italia ha affrontato costruttivamente in alcuni casi votando a favore in alcuni casi astenendosi in alcuni casi chiaramente dando nel complesso un voto contrario a quella che è una manovra che non ci convince per due ordini di motivi la prima perché non va assolutamente a toccare tutto il malcontento che viene vissuto dalla comunità toscana sia a livello imprenditoriale che delle famiglie e poi chiaramente perché nel suo complesso non fa che essere una variazione che non ha nessun tipo di strutturazione e organicità e ci fa credere che durante il corso dell'anno ricorreremo probabilmente ad altri prelievi che ci aspettiamo di poter chiaramente poi controllare e dibattere in aula Critiche anche dal gruppo misto Toscana Domani dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle Ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in Commissione La prima che è l'aumento della pressione fiscale è innegabile benché ci venga passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo Paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura come dire sostengono il PIN nazionale ancora una volta si fa una scelta ben precisa oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50 mila euro ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è regato a una partita IVA ma avrà una trattenuta del 43% e un addizionale regionale più alta questo è il quadro su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450 mila euro su questo avevamo cercato di neutralizzare proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministrazione Delegato laddove è previsto allora capite bene che questo è quasi un paradosso sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia nell'impostazione nel contenuto siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco ma qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva perché perché di fatto ecco non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda ecco il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie vorremmo avere ecco rassicurazioni a riguardo al più presto anche perché ecco l'adeguamento alle aliquote le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale altre regioni hanno perseguito questa strada in più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di di compensi dei manager delle partecipate della Toscana anche per oggi non si vola il Pegasone non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra e poi lo voglio dire proprio chiaramente quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria ecco quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria invece constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria ma di carattere manutentivo cioè servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento in delle situazioni che devono essere cambiate questo non ci convince come modo di fare lo riteniamo poco rispettoso anche nei confronti dei toscani questa variazione di bilancio è incomprensibile innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo è anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari si è svolta alla presenza di numerosi studenti accolti all'interno del teatro la compagnia di Firenze la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera Toscana presente all'iniziativa anche Antonio Mazzeo presidente del consiglio regionale che ha ricordato la strage di Capaci il 23 maggio 1992 con l'esplosione dell'autostrada che provocò la morte del giudice Giovanni Falcone della moglie Francesca Morvillo e della scorta Mazzeo ha spiegato come quel tragico episodio abbia poi inciso anche sulle sue scelte personali noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia quella che combatte contro le mafie quella che tutela la legalità e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale istituzioni forze dell'ordine scuole ragazze ragazzi è una sfida collettiva è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre il mio impegno in politica nasce proprio per questo era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento in una giornata come questa di sole in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta lì scattò qualcosa dentro di impegno civico di impegno collettivo ecco io ai ragazzi ho mandato questo messaggio non siate mai indifferenti non giratevi mai dall'altra parte la mafia si combatte tutti insieme e si combatte solo se ci riusciremo a portare un grande cambiamento culturale in ognuno di noi il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti la stagione delle stragi è finita è stata acquisita dalle mafie dalla cosa nostra ma anche dall'andranghe dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato ma conviene come hanno sempre fatto storicamente infiltrarsi senza far troppo rumore e quindi l'attenzione deve essere ancora più importante le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono si infiltrano cercano di incunearsi anche all'interno di di imprese di diciamo di acquisire favori dalle istituzioni abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori anche locali con pochi scrupoli non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con con le mafie per cui bisogna tenere alta l'attenzione le guerre sono collegate fra di loro le guerre sono l'elemento di una strategia globale di asservimento degli esseri umani della riduzione degli esseri umani a meri fattori produttivi che possono essere poi tranquillamente sacrificati questa è la grande logica delle mafie in Toscana stiamo vivendo un momento anche molto difficile perché ci sono delle inchieste consistenti che si allargano sempre di più che mostrano sempre di più correlazione tra di loro per cui la grande pagina purtroppo dell'inchiesta sul Cheo ci ricorda che le propaggine arrivano persino in Val Darno la questione di Livorno non è soltanto quella del porto della città ma dei porti toscani in quanto tale per quanto riguarda appunto l'arrivo massivo di sostanze stupefacenti nella nostra regione per tutto il resto d'Italia e appunto citare le inchieste sul Maremma significa rendersi conto che non siamo più di fronte a una regione che ha dei territori intonsi da questo punto di vista e quindi l'impegno deve essere radicale e noi cerchiamo di costruirlo su basi nobili come per esempio il ricordo di tutti coloro che hanno lasciato che hanno serificato la loro vita per il bene di tutti per la giustizia per un'Italia libera dalle mafie questa era la nostra ultima intervista dunque cronache e commenti si conclude qui e torna la prossima settimana a un'Italia Grazie a tutti.